Elisa Isoardi ha salutato oggi il pubblico di A Conti Fatti. Il programma è giunto alla sua ultima puntata. Non è ancora chiaro se ci sarà una nuova stagione a partire da settembre o se il programma verrà cancellato. Per avere risposte, occorrerà attendere la presentazione dei palinsesti RAI, che si terrà il 28 giugno. Nelle ultime settimane, però, si sono rincorse le indiscrezioni che vedrebbero a rischio la riconferma della presentatrice al timone del programma di RAI 1. Così, in tanti hanno letto una lieve polemica nelle parole usate dalla Isoardi per congedarsi dal suo pubblico. Prima che la trasmissione finisse, ha fatto gli ultimi ringraziamenti. Saluto i dirigenti che evidentemente non sono qui, però li avete visti nel programma precedente. Grazie per essere stati con noi e spero di rivedervi presto. Il mio pubblico è bellissimo, se fossero tutti come il mio pubblico. A me basta questo, grazie. Grazie per essere stati con noi, a presto. A conti fatti è stato bello. Va bene così. Il riferimento, probabilmente, era le belle parole spese dal dirigente RAI Ludovico Di Neo nei confronti della trasmissione di Eleonora Daniele Storie vere. In realtà, in mattinata, il direttore di RAI 1 Andrea Fabiano, ha ringraziato su Twitter tutti i presentatori che si occupano del mattino di RAI 1. Tra loro, ovviamente, ha incluso anche Elisa Isoardi. Grazie a Francesca Fialdini, Franco Di Mare, Eleonora Daniele, Elisa Isoardi e Antonella Clerici protagonisti del mattino di RAI 1. Chi se ne frega.